Eh sì lo so ragazzi siamo un po' in ritardo ma d'altronde con tutto quello che ha da fare Max e con tutto quello che ho da fare io che sono sotto tesi e sto preparando la roba per il Luca Comics non abbiamo potuto fare diversamente. Comunque sappiate che nonostante non esca magari il video in tempo il calendario esce sempre in tempo quindi ovviamente date un'occhiata su Gumroad e nelle mie storie Instagram che quando esce lo pubblico sempre. Tra l'altro a proposito di Luca ci vediamo lì il 2 novembre e il 3 novembre anche lì metterò delle storie Instagram che lascerò in evidenza per tutta la durata di Luca con tutte le informazioni per incontrarci. E sappiate che è già uscito anche il calendario di novembre su Gumroad. Bene vi aspetto lì e ora vi lascio al video ciao. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video della serie dedicata al calendario 2019 sulle specie estinte per mano dell'uomo che sto realizzando assieme alla bravissima illustratrice ed artista Max Rambaldi che vi ho avuto a seguire. Questo oggi è un ospite piuttosto ingombrante ovvero la retina di stelle e poi quando vedrete i disegni di Max e vi racconterò la sua storia capirete perché è ingombrante. Ovviamente il calendario lo trovate su Gumroad link nel primo commento in evidenza è in descrizione e niente fatemi sapere se lo apprezzate. Vi lascio alla storia adesso. Qual è l'animale di maggiore dimensioni estinto in tempi storici se non si conta nei cetacei? Beh quel primato è della retina di steller, Hydrodamalis gigas, un parente dei dugonghi e dei lamantini che secondo le stime raggiungeva gli 8 metri di lunghezza e le 10 tonnellate di peso. Per quanto ne sappiamo è anche il membro più grande dell'ordine dei sireni, ovvero l'ordine dei mammiferi di cui fanno parte dugonghi e lamantini appunto, mai esistito. Lo Steller, da cui la retina prende il nome, è stato un botanico e zoologo tedesco. Georg Wilhelm Steller fu il primo europeo a descrivere diverse delle specie della Siberia e dell'Alaska. Imbarcatosi nel 1738 come volontario in qualità di naturalista durante la seconda spedizione in Kamchatka, guidata dal capitano Vitus Bering, salpò da San Pietroburgo fino a raggiungere l'attuale Kayak Island, Alaska, nel 1741. Premurandosi sempre di trascrivere sul suo diario di viaggio minuziose descrizioni di piante e animali che riusciva ad osservare. Durante il tragitto di ritorno la nave sulla quale era imbarcato naufragò in quella che oggi è chiamata Isola di Bering, un'isola delle Commodoro, dove il capitano trovò la morte assieme a quasi metà dell'equipaggio, che fu decimato dallo scorbuto. I sopravvissuti allestirono un campo base facendosi bastare il cibo e l'acqua rimasti per tutto l'inverno e in primavera riuscirono a costruire un vascello con il quale approdarono alla Baia di Avacha, in Kamchatka. Spinti dalla necessità di sopravvivere, i naufraghi finirono per scoprire che quello sconosciuto lembo di terra ospitava una quantità di animali ignoti, animali che, nonostante la situazione critica con la quale convivere ogni giorno, Stellar continuò ad osservare e descrivere sui suoi diari. Tra le tante specie tra lui descritte, infatti, figurano un'otaria, un'aquila, un cormorano e, appunto, l'aritina. E meno male, perché Stellar è stato l'unico naturalista vivente ad osservare questi placidi giganti, che ha descritto con dovizia di particolari. Cinque anni dopo la morte del naturalista, i diari furono pubblicati sotto forma di un volume chiamato The Besties Marinis. Dell'aritina racconta che, testuali parole, fino all'ombelico somiglia ai pinnipedi, e da questo, fino alla coda, ricorda le valene o i delfini. Le sue labbra erano piene di robuste setole e, recito testualmente, quelle inferiori sono talmente robuste da sembrare i calami delle penne di galline. Gli occhi non erano più grandi di quelli di una pecora, erano senza palpebre, i fori auricolari erano piccoli come un pisello e nascosti tra le rughe della pelle, tanto da poter essere visti solo quando questa veniva rimossa. Utilizzava le mani, trasformate in pinne coperte di corte setole, per avanzare nell'acqua e staccare dal fondo le piante di cui si nutriva. La coda presentava due lobi appuntiti, che formavano una sorta di pinna caudale. Come gli altri sireni, l'aritina non aveva arti posteriori, o qualche traccia di protuberanza pelvica. Aveva invece i tipici arti anteriori corti, simili a monconi, e quelle erano le sue uniche appendici. Le estremità di quegli arti avevano la pelle più spessa e dura di tutto il corpo, tanto che sembravano delle specie di zoccoli di cavallo, solo un po' più appuntiti. Oltre ad essere assai più grandi dei sireni tropicali oggi viventi, avevano anche una pelle più particolare. Alcuni lembi essiccati, che ancora oggi si possono osservare all'Istituto di Zoologia di San Pietroburgo, sono neri, completamente privi di peli, molto ruvidi, e con numerosi solchi e rughe, crivellati di cavità. La pelle delle ritine di Steller doveva quindi essere abbastanza simile alla corteccia di una quercia, cosa che in effetti riporta anche Steller. Ed è proprio ad essa che si deve il nome tedesco di quest'animale, ovvero Barkentier, cioè animale corteccia, nonché quello italiano, Ritina, che deriva dal greco Ritis, che vuol dire grizza. Una pelle così robusta, d'altronde, era necessaria agli animali per evitare di ferirsi contro blocchi di ghiaccio o scogli taglienti. Come poté accertare lo stesso Steller, gli animali erano infestati da parassiti, come ad esempio un crostaceo anfipode, il Ciamus Ritine, che si fissava alla loro pelle formando caratteristiche cavità a forma di imbuto, e da cirripedi, che producevano profonde ulcerazioni. La Ritina di Steller era presente in epoca storica attorno alle acque dell'isole di Bering e del Rame, appartenenti al gruppo delle isole Commodoro, nella parte occidentale del mare di Bering. Resti risalenti al Pleistocene, appartenenti alla stessa specie, sono stati rinvenuti anche in altre isole, come quella di Amchitka, nelle Aoleutine e nella Baia di Montay, lungo le coste della California. Resti di specie simili, vissute nel Pliocene, sono stati trovati in Giappone e California. La sua linea si separò dagli altri dugongidi nell'Oligocene superiore. Come racconta Steller, le coppie di Ritine erano molto unite, e durante il pascolo gli adulti formavano un vero e proprio cerchio attorno ai piccoli, di norma uno molto piccolo e uno più grandicello, tenendoli costantemente in mezzo al branco. Secondo le sue osservazioni erano monogame, facevano figli per tutto l'anno, ma di norma si accoppiavano a primavera e partorivano un solo piccolo in autunno, perciò ipotizza che la gestazione durasse un annetto. La Ritina era l'unico sirene di epoca moderna ad essersi adattato a vivere in acque fredde. Al momento della sua scoperta era piuttosto numerosa nelle acque poco profonde tra le isolette circostanti le coste dell'isola di Bering, dove consumava letti di kelp e alghe marine nelle acque basse. Ogni 4-5 minuti sollevavano il naso fuori dall'acqua, sbuffando per riprendere fiato, per poi tornare a pascolare come fossero mucche sommerse. Metà del corpo spesso rimaneva fuori dall'acqua, tanto che i gabbiani ci si appollaiavano sopra per banchettare con i loro parassiti. Pare anche che fossero piuttosto selettive nell'ascetta del cibo e che quindi non si nutrissero indistintamente di qualsiasi alga o pianta marina. Alcune, dopo mangiato, andavano a dormire adagiandosi sul dorso. Prima però si inoltravano maggiormente verso il mare affinché la marea, abbassandosi, non le lasciasse sulla terra asciutta. In inverno diventavano molto magre, tanto da far intravedere da fuori costole e colonna vertebrale. Insomma, erano animali pigri, placidi, lenti e senza paura dell'uomo. I naufraghi della spedizione di Bering si sono nutriti per sopravvivere anche delle ritine di Stellar, ma pare che questo non abbia effettivamente un peso rilevante sullo sterminio di questa specie. Comunque, durante la permanenza sull'isola, Stellar e compagni constatarono che le carni e il pannicolo adiposo dei sireni uccisi contribuivano in misura determinante alla guarigione dei marinai colpiti da scorbuto e carie. Secondo Stellar, il grasso di questi animali è qualitativamente superiore al miglior grasso bovino esistente e dopo essere bollito acquista un sapore simile all'olio di mandorle dolci, tanto che lo si poteva bere a ciotole senza la minima nausea. I naufraghi si riportarono via anche un bel po' di carne di ritina come scorta quando ripartirono per tornare a casa. E una volta tornati, si diffuse la notizia di queste isole e i cacciatori di pellice partirono per catturare lontremarine, otarie e volpi azzurre. Le ritine di Stellar, infatti, non erano le prede più ambitie dai cacciatori, che approdarono contemporaneamente sulle Commodoro per terminare la costruzione delle loro scialuppe per raccogliere abbondanti provviste di carne, in modo da poter proseguire tranquillamente fino alle utine e alle coste dell'Alaska. Le isole Commodoro divennero una stazione di scalo per questi cacciatori di pellice, infatti trasportavano dal continente tutta l'intelaiatura delle imbarcazioni a eccezione del rivestimento esterno, che fabbricavano in loco con la pelle di queste ritine. Le imbarcazioni costituite in questo modo erano più leggere, più veloci e meno sensibili al movimento della risacca rispetto a quelle con il fasciame di legno. La pelle delle ritine di Stellar venne utilizzata anche per la fabbricazione di calzature, in particolare per le suole. Con ogni probabilità non si impiegava in questo caso la robusta parte esterna, bensì lo strato sottostante, più sottile. Come le prendevano queste ritine? Come riporta il buon Stellar, si catturavano con un grosso uncino di ferro. L'altro capo era legato a un anello di ferro, assicurato con una corda lunga e robusta, tenuta da 30 uomini sulla riva. Un marinaio molto forte prendeva l'uncino, saliva sulla barca insieme a altri 4 o 5 uomini e a quel punto andavano appunto verso il branco di ritine silenziosamente. E quando quello col gancio arrivava a tiro, lo conficcava in una ritina e gli uomini sulla riva, che tenevano l'altro capo della corda, tiravano verso di loro con forza l'animale che cercava disperatamente di scappare. Quelli sulla barca anch'essi spingevano l'animale con un'altra corda e cercavano di stancarlo con continui colpi, fino a che, stanco e immobile, veniva attaccato con lance, coltelli e poi tirato sulla riva. L'animale sulla riva veniva finito a pugnalate oppure ancora vivo tagliato in immense fette e l'unica cosa che riusciva a fare era agitare furiosamente la coda opponendo una tale resistenza con gli arti anteriori da strapparsi grosse strisce di cuticola. Sterler riporta anche che respiravano affannosamente come se piangessero e che le frite sul dorso zampillavano sangue come fontane. Gli animali più vecchi e più grossi erano più facili da catturare degli esemplari giovani perché questi ultimi si devenavano molto più vigorosamente e addirittura riuscivano a fuggire con l'uncino conficcato che si strappava appunto dalla pelle a forza di tirare. Sterler ci dice anche che quando un animale veniva arpionato, tutti gli altri si adoperavano per salvarlo. Alcuni si disponevano in cerchio attorno al ferito cercando appunto di tenerlo lontano dalla riva altri tentavano addirittura di rovesciare l'imbarcazione dei cacciatori e altri ancora si mettevano di fianco al compagno colpito adoperandosi per togliergli l'arpione dalle arni. Sterler riporta anche che, aperte virgolette, con enorme meraviglia ci accorgemmo anche che un maschio tornò per due giorni successivi vicino alla propria compagna che giaceva morta sulla spiaggia quasi volesse accertarsi del suo stato di salute. Chiuse virgolette. Pare anche che se la femmina e il piccolo seguivano il maschio catturato nel tentativo di soccorrerlo venivano anche essi uccisi. Tra il 1743 e il 1763 circa 19 gruppi di cacciatori di pellicce, ciascuno comprendente da 20 a 50 uomini, soggiornarono per l'intera stagione invernale sull'isola di Bering mentre altri svernarono sull'isola del rame. Attorno a quest'ultima le retine scomparvero completamente già verso il 1754 mentre sembra che l'ultimo rappresentante della specie sia stato abbattuto nel 1768 da un cacciatore di nome Ivan Popov presso l'isola di Bering. Appena 27 anni dopo la sua scoperta. Pare comunque che già all'arrivo di Sterler questa specie si ritrovasse in numeri abbastanza esigui. Secondo Leonhard Hess Steininger il numero di retine al momento del naufragio della spedizione di Bering doveva essere intorno a 2000. Tuttavia, Turvey e Risley non concordano su questo dato e nel 2005 hanno elaborato un modello matematico il cui risultato è stato che una popolazione iniziale di 2000 individui sottoposta ad una tale improvvisa pressione venatoria si sarebbe estinta molti anni prima, il 1768. Quindi, secondo loro, la popolazione delle isole di Commodoro era circa 2.900 capi. Il fatto comunque che l'uomo abbia sterminato completamente tale specie appena 27 anni dopo la sua scoperta è una roba tristissima, veramente. I più attribuiscono la scomparsa della retina di Sterler ai rapaci cacciatori russi che uccidevano tutti gli esemplari che riuscivano a trovare. Tuttavia, Paul Anderson, nel 1995 ha proposto una spiegazione un pochino diversa. La sua tesi, in realtà espressa per la prima volta nel 1980 da Hayley attribuisce parte della responsabilità alle popolazioni aborigine che scacciarono le lontre marine dalle aree costiere in precedenza abitate dalle ritine. In assenza delle lontre si ebbe una crescita esponenziale dei ricci di mare che erano tra i cibi delle lontre i quali consumavano le alghe in tutta l'area abitata dai dugonghi giganti privandoli del loro cibo. Così, dice Anderson, quando arrivò a Bering questi grandi sireni erano ormai confinati su isole come quelle del rame e di Bering in cui non c'era mai stata una popolazione umana ed erano perciò facilmente eliminabili. Quindi aggiunge che l'evoluzione di questi animali potrebbe quindi essere di pesa dalla predazione delle lontre sui ricci di mare e la loro estinzione potrebbe essere stata affrettata dal declino delle popolazioni di lontre dovute appunto all'azione delle popolazioni aborigine. In soldoni l'estinzione non è quasi mai una cosa semplice. Come vi ho detto, vi dico sempre in questo rubrica cambiando un tassellino non si sa mai come reagiscono gli altri. Ciò non toglie che comunque sia una popolazione così esigua di partenza con la dovuta spinta di conservazione magari sarebbe arrivata tranquillamente fino a noi. E invece, oltre che per ossa e lembi di pelle conservate in qualche museo conosciamo la retina di Steller solo grazie alle testimonianze di Steller e per via di qualche disegno fatto all'epoca. Però c'è ancora qualcosa che vi posso raccontare. Nonostante la poca elusività di questa bestia che insomma non passava esattamente inosservata nel corso degli anni non sono mancati i presunti avvistamenti e aneddoti che hanno fatto ipotizzare la sopravvivenza degli esemplari di retina in epoche successive alla data di estinzione comunemente accettata. Intanto, specifichiamo che il loro areale di distribuzione non era strettamente limitato all'isola di Bering. Al suo ritorno in Kamchatka, infatti, Steller fu notevolmente sorpreso nell'apprendere che i nativi conoscevano da tempo la strana creatura della quale appunto pensava di essere il solo scopitore e la chiamavano Kapustnik, ovvero Mangiatore di Cavoli e stando alle loro testimonianze era diffusa lungo tutta la costa orientale della penisola. Lo scopitore del passaggio a nord-est, lo svedese Nordelskjold, durante un viaggio compiuto nel 1878-1879 sul nave da spedizione Vega fece scala alle isole Comodoro dove raccolse un gran numero di ossa delle ritine e non mancò di interrogare gli abitanti in merito a quest'animale. Alla fine della sua breve inchiesta, come da lui stesso riportato all'interno del suo libro The Voyage of the Vega Around Asia and Europe, pubblicato nel 1881, rimase fermamente convinto che quest'animale era sopravvissuto molto più a lungo di quanto si pensasse. Leonard Steininger, però, quello che vi dicevo prima che aveva ipotizzato una popolazione di partenza di 2000 ritine, però era di altro avviso. Steininger era un naturalista molto illustre con più di 400 pubblicazioni all'attivo e tra l'altro curatore capo del Dipartimento di Biologia presso lo Smithsonian Institution e, tra l'altro, era anche il più grande conoscitore della vita di Georg Steller. Ai suoi tempi, Steller era una figura completamente dimenticata, ma Steininger pubblicò nel 1936 un libro che ne ripercorreva tutta la vita, frutto di una ricerca durata 50 anni. Nel 1884 era tornato addirittura sull'isola di Bering per verificare le testimonianze riguardanti le ritine sopravvissute e intervistò addirittura le stesse persone intervistate anni prima da Nordenskold. Notò subito però alcune discrepanze temporali. In un altro caso, si accorse che probabilmente una delle ritine avvistate era una femmina di Narvalo, non un sopravvissuto di questa specie. Indizi più recenti risalirebbero al mese di luglio del 1962, quando l'equipaggio della baleniera Burran dichiarò di aver osservato degli strani animali presso la regione di Capo Navarino, promontorio della costa siberiana che si trova a sud del golfo dell'Anadir. La nave, in mattinata vicino alla costa, avvistò almeno sei animali d'aspetto insolito ad una distanza di circa 100 metri. La loro lunghezza fu stimata da 6 a 8 metri e stazionavano appunto in acque basse. L'equipaggio non seppe dire di cosa si trattasse, ma la testa comunque era piccola, nettamente distinguibile dal resto del corpo, avevano colore scuro e coda bilobata. Questo avvistamento fu reso pubblico nel 1963 da tre zoologi russi, all'interno di un articolo pubblicato sulle pagine della rivista Prioroda. Gli autori sottolinearono come nessun mammifero conosciuto era noto per possedere queste caratteristiche e quindi allusero chiaramente alla presenza di una ritina. Circa il fatto poi che le ritine furono estinte da cacciatori di pellicce che le cacciavano per carne, grasso e cuoio aggiunsero che in altre aree dove questo animale poteva vivere come suggerito appunto dagli avvistamenti che riportarono la caccia non è praticata perché appunto non c'erano animali da pelliccia pregiata. Quindi dissero possiamo supporre che la ritina sia sopravvissuta in queste zone ma non esistono informazioni al riguardo. Si aspicavano poi che si facesse qualche spedizione in cerca di ritine rimaste in vita ma nessuna spedizione fu fatta. Eptner però concluse che gli animali non erano altro che femmine di narvalo. L'ultimo aneddoto conosciuto e potrebbe essere collegato alla ritina risale al 1976 e fu pubblicato l'anno successivo da Vladimir Magliukovic. Un uomo che lavorava nell'ambito della pesca ai salmoni vide uno strano animale che dalla descrizione pareva una ritina cosa che fu confermata quando vide il disegno di una ritina e lo associò immediatamente all'animale che aveva visto. Tuttavia secondo Mitchell biologo canadese probabilmente si trattava di un elefante marino del nord ma ripeto spedizioni per trovare le ritine non ne sono mai state fatte e onestamente non ci sono altri presunti ammistamenti che possano far sperare che questo plascido gigante sia ancora tra noi. Vigarbo un monte quando c'è l'acquina in trasparenza nei disegni fan max non so Vigarbo un monte questa illustrazione è proprio un degno tributo alla ritina di stelle insomma un animale insomma sarebbe stato bello vederlo dal vivo però seguite max ovviamente il link lo trovate come vi ho detto per reperire il calendario su gamelod in descrizione e nel primo momento se volete sostenere la mia attività di divulgazione sui social specialmente qui e su instagram se non mi seguite seguitemi anche lì metto un sacco di storie ganze trovate in descrizione il link per poterlo fare detto questo ci vediamo il prossimo mese ciao 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 ciao